Benvenuti. L'obiettivo di oggi è quello di iniziare a vedere assieme come funziona R e tutto l'ambiente correlato. Dal sondaggio, diciamo che due terzi di voi hanno già installato R ed RStudio, qualcuno installato soltanto R, qualcuno soltanto RStudio. In generale vi consiglio di installare RStudio, oltre a R, perché dà molte caratteristiche in più e sarà l'ambiente di riferimento di questo corso. Metto da parte il poll. Allora, quello che vedete, questa finestra che sto muovendo ora, è la console di R, cioè l'ambiente di base. Quello che sta sullo sfondo invece è RStudio. La versione di R che voi dovreste aver installato è la 4.0.4, che dovrebbe essere, o forse c'è qualcosa di più recente, non l'ho installata un mesetto fa, e quindi non è recentissima, comunque 4.4. qualcosa. E' importante che utilizzate la versione 4 e non la 3, perché ci sono alcune modifiche di linguaggio, e quindi per avere i risultati esattamente replicabili rispetto a quelli che vedremo assieme, è importante che abbiate la versione 4. In sostanza, è possibile fare praticamente le stesse cose, sia con R semplice che con RStudio. Il grosso vantaggio di RStudio è che è tutto integrato ed è più facile da utilizzare. Quindi, se volete scrivere due cose veloci, R può andare bene, perché è più veloce da far partire, ma in generale, se dovete fare qualcosa di un po' più articolato, RStudio è raccomandato. E come vi dicevo, è l'ambiente di riferimento per la seconda parte del corso. Vi tolgo anche la console di R. Allora, vi ho pubblicato una lezione abbastanza lunga relativa a R. L'obiettivo è quello di oggi e poi lunedì prossimo iniziare a vedere assieme come funziona, in modo che dall'esercitazione della settimana prossima voi siate in grado di utilizzarlo e di fare le cose essenziali. Nell'esercitazione di questa settimana non utilizzerete ancora R, sarà un'esercitazione ancora sulla parte precedente del corso. Iniziamo prima perché comunque l'argomento è R, è abbastanza intenso, e quindi abbiamo bisogno di un paio di lezioni per riuscire a raggiungere un livello ragionevole. R è un ambiente interattivo. L'elemento base fondamentale su cui gira tutto è quello che vediamo qui, ovvero la console. Adesso vi allargo un pochettino il testo così forse riuscite a leggerlo anche meglio. La console è dove noi andiamo a inserire comandi, espressioni, assegnazioni, che permettono di andare a farlo funzionare. Per cosa è pensato R? R è pensato per elaborazioni matematiche e statistiche. Quindi quello che noi andremo a inserire dentro R sono sostanzialmente delle operazioni aritmetiche o statistiche. Per cui, non lo so, se abbiamo due lati di un triangolo rettangolo, i cateti sono A uguale 3, B uguale 4, C è uguale a la radice quadrata, SQRT è una funzione che trovate in qualsunque linguaggio di programmazione, sta per square root, la radice quadrata, di A al quadrato più B. A al quadrato. Ok? Crema di Pitagora. A questo punto abbiamo calcolato A, abbiamo inserito A, abbiamo inserito B, abbiamo calcolato C, e quanto va è C? B, basta scriverlo e automaticamente il nostro ambiente R lo calcola. Che cosa abbiamo fatto? Allora, la prima riga che abbiamo scritto è sostanzialmente quello che è un'assegnazione. Noi assegniamo a una variabile che si chiama A, il valore 3. Io qui ho utilizzato l'uguale, che è quello che trovate in tanti linguaggi di programmazione, in R il modo, diciamo così, ufficiale e standard di fare l'assegnazione non è tramite il segno di uguale, ma bensì tramite la freccia, quindi A freccia 3. Quello che vedete mostrato qua, la freccia probabilmente non ce l'avete sul vostro PC perché dipende dal font che avete installato. Il font che sto usando io è un font che fa quelle che si chiamano le ligature, ovvero quando io scrivo minore e freccia me lo trasforma nel carattere freccia. Quindi l'apparenza che voi avete sul vostro schermo è leggermente diversa, ma sostanzialmente quello che scriviamo è lo stesso, quindi minore trattino. Quindi esiste quello che si chiama un ambiente in cui le variabili vengono memorizzate. Allora, i link sono quelli presenti sulle slide e quindi dovete scaricare R ed RStudio. La cosa è un po' lunga, potete farla nel frattempo mentre lo scaricate e poi installarlo. Comunque vi metto poi a disposizione tutto. Cosa succede? Andiamo a memorizzare dentro la variabile A il valore 3. Tutto quello che noi andiamo a memorizzare va a far parte di quello che è l'environment. Se noi utilizziamo RStudio, l'environment lo vediamo quassù in alto a destra. Scusate, ridimensiono. Qui in alto vedete che c'è scritto environment e qui ci sono tutti i valori che sono stati messi all'interno di questo ambiente globale. C'è un unico ambiente globale in cui noi andiamo a scrivere i valori. Possiamo assegnare dei valori molto semplici. Oppure possiamo andare a calcolare delle espressioni, come in questo caso, radice quadrata di A quadro più B quadro. Vedete che scrivo le espressioni come le scrivo in tanti altri linguaggi di programmazione. Ecco, l'elevazione a potenza, non tutti i linguaggi hanno la compattezza dell'operatore di elevazione a potenza, però è abbastanza facile da capire. la funzione radice quadrata. Quindi, cosa fa questa espressione? Prende A elev al quadrato, lo somma B elevato al quadrato, di tutto prende la radice quadrata e il risultato lo va a mettere dentro C. In effetti, se voi andate a vedere qui in alto a destra, C contiene il valore 5. Quando io vado semplicemente a mettere un valore, mettendo qui C, cosa succede? Che R va a valutare quel nome e quindi mi stampa il risultato e quindi mi stampa 5. Io posso anche, invece di andare a mettere il tutto in una variabile, andare a scrivere direttamente un'espressione, come questa, e ottenere che R valuti l'espressione e semplicemente la stampi. Questo modo di comportarsi si chiama REPL, read, evaluate, print e loop, ovvero ripeti. L'ambiente con tutte le variabili può essere svuotato. Lo possiamo fare in RStudio con questo simbolo qua, clear objects from the workspace, quindi cancella tutto quello che c'è. L'ambiente di lavoro viene svuotato. Possiamo anche, dalla console, andare a vedere quelli che sono i nomi attualmente, dei variabili attualmente definiti, quindi abbiamo A, B e C e volendo possiamo anche cancellare l'ambiente direttamente dalla console con il comando RM. Quindi, se volete svuotare, potete farlo sia da console che poi da, direttamente, qua su in alto, dall'environment di RStudio. Altro elemento che io ho messo qui in questo primo esempio è hash e una stringa. Ok? Questo è un commento. Tutto ciò che segue il simbolo di hash è considerato un commento. Noi possiamo utilizzare R in questo modo, quindi andando a scrivere le cose, e poi una volta che siete su una riga, se voi premete il tasto cursore verso l'alto, andate a richiamare, vedete, tutte le righe che avete inserito prima. Quindi potete tornare su una riga precedente, modificarla e andare a ri-eseguirla. Un'altra cosa che normalmente si fa è non tanto fare questo, che è utile per espressioni isolate, ma piuttosto è quello di andare a creare quello che è uno script, ovvero una serie di istruzioni messe all'interno di un file di testo, che sostanzialmente ci permettono di andare a scrivere e modificare facilmente e poi eseguire. Lo facciamo andando qui a creare un R script. Vedete che è possibile andare a creare tanti tipi di documenti. Per il momento noi ci concentriamo su quelli che sono gli script R, che sono quelli più semplici, poi vedremo almeno un altro paio di applicazioni che sono R Markdown e poi verso la fine del corso Shiny Web App. Andremo a sviluppare poi delle applicazioni che sono interattive su web. Iniziamo con R script. Mi si apre un editor di testo, perché gli script R sono semplicemente file di testo, in cui vado a scrivere quello che è il codice. Il vantaggio di avere un file di testo è che posso scrivere tante cose magari e commentare, quindi ad esempio scrivo valori dei cateti, quindi A 4 B E Poi commento. I commenti di solito possiamo metterli o sulla linea, come ho fatto io prima quando ho calcolato la radice quadrata di A e B al quadrato, oppure possiamo utilizzare un'intera linea per il commento, l'unica cosa è che devo decidere dove metto il carattere Ash. Se lo metto come primo carattere significa che quello sarà una linea di commento, perché da quel carattere fino alla fine della riga è considerato un commento. Vedete che nell'editor vengono anche colorati diversamente gli elementi e quindi questo aiuta un po' a comprendere meglio quello che stiamo facendo. Quindi calcolo dell'ipotenusa secondo il teorema di Pitagora e quindi andiamo a scrivere C freccia SQRT di A al quadrato più B al quadrato poi posso scrivere C semplicemente oppure se voglio esplicitamente dire che voglio stampare il risultato posso utilizzare una funzione che si chiama print stampa l'ipotenusa qual è il vantaggio di avere uno script che io lo salvo lo salvo come 2021 0 3 22 esempi e qui dentro ci metto gli esempi di oggi a questo punto quello che posso fare è andare su una riga e eseguire il codice lo posso fare con command invio oppure posso andare qui a scegliere il risultato oppure posso selezionare tutto ed eseguire tutte le righe per cui se eseguo una sola riga vedete che sotto nella console mi viene riportato sostanzialmente la riga che ho eseguito e anche il commento precedente quindi se vado ad eseguire l'altra riga B mi viene eseguita quella oppure posso andare a selezionare un blocco di testo su Windows credo che sia control invio su Mac e command invio e quindi mi esegue tutto quello che ho evidenziato quindi molto comodo perché qui sopra a questo punto io posso tranquillamente ad esempio andare a cambiare il cateto da 3 a 5 e rieseguire tutto e scoprire che l'ipotenusa in questo caso è 6,4 ok i risultati della stampa li vedo sempre qua sotto nella console che cosa sono questi valori che abbiamo che abbiamo calcolato sono dei valori che come vedete sono messi sono memorizzati con la virgola nell'environment oppure senza in generale posso avere valori di diversi tipi posso avere dei valori numerici come 4 5 6,40 eccetera posso avere delle stringhe posso avere dei valori posso avere dei valori interi e posso avere dei valori di tipo logico vero o falso per sapere che tipo di valore stiamo trattando possiamo andare a utilizzare una funzione che si chiama class a cui passo o un valore direttamente scusate e vedete che qui sotto class di 5 è numeric oppure posso andare a fare class di una variabile e in questo caso va a prendere come risultato il valore memorizzato in quella variabile e mi dice di che tipo è e quindi mi dice numeric oltre a questi valori oltre al valore numerico che è quello predefinito e usa lo standard IEEE 754 di memorizzazione per eseguire il run se vi posizionate su una riga con il cursore o ne selezionate più di una e poi contro l'invio oppure command invio a seconda se siete su su Mac o su Windows domanda c'è differenza tra il singolo e il doppio hash no sostanzialmente è una questione di formattazione per cui ad esempio potrei andare a dire metto un singolo poi metto una serie di trattini e vado a dire ok primi comandi in R formattazione generale ok quindi non c'è nessuna differenza particolare c'è una differenza se io metto hash e poi l'apice che è un tipo di documentazione particolare ma ne acceneremo più avanti in generale non c'è differenza tra diversi tipi di documenti di commenti e l'unico carattere è il carattere di hash oltre al valori numerici che sono quindi memorizzati come valori in virgola mobile floating point R è in grado di trattare anche valori numerici di tipo intero se io non dico nulla tutti i numeri vengono memorizzati come numeriche se voglio utilizzare un valore che sia di tipo intero posso fare ad esempio i uguale anzi freccia e posso mettere 42 e metto una L maiuscola in fondo la L maiuscola che sta per long in realtà mi dice che quel valore lì è un valore intero su 64 bit ok se ricordate nei corsi di informatica del primo anno vi hanno spiegato cos'è la rappresentazione complemento a 2 ecco quando uso un intero quello viene memorizzato con la rappresentazione di complemento a 2 se invece memorizzo un numerico viene memorizzato con la notazione IEEE754 voi vi chiederete ma chi se ne frega cosa cambia cambia perché i valori interi memorizzati con il complemento a 2 sono memorizzati in maniera precisa ok il numero memorizzato è esattamente quello 42 quando utilizzo dei numeri in virgola mobile talvolta non sono memorizzati in maniera precisa ok perché per problemi di rappresentazione non riesco avendo un numero limitato di bit a rappresentare esattamente un numero quindi non so se devo rappresentare un terzo come somma di potenze di 2 vado all'infinito ok per cui la rappresentazione non è esatta a volte è necessario invece avere una rappresentazione esatta e quindi se voglio avere una rappresentazione esatta dei numeri interi conviene utilizzare un intero e non un valore numerico oltre agli interi e alle ai numeriche vedete se adesso faccio classe di il risultato è non ho memorizzato è integer oltre a questi abbiamo anche le stringhe quindi s una stringa le stringhe le posso andare a memorizzare sia con i doppi appici che con i singoli non c'è differenza l'unica differenza è che in questo modo posso andare a mettere s freccia una stringa con elementi tra doppi apici quindi usando i singoli apici come delimitatori singolo apice qui e singolo apice in fondo posso andare a mettere all'interno della stringa il doppio apice senza la necessità di dover mettere il backslash come facevo in C per cui se vado a prendere questo il risultato viene memorizzato così col doppio apice e vedete che nella quotazione mi mette un backslash doppio apice però nel testo lo posso scrivere nel codice di sorgente lo posso scrivere con i singoli o con i doppi apici infine abbiamo i valori logici l uguale ad esempio a maggiore di b scriviamo così quindi assegno a l il risultato del confronto tra a e b quindi l avrà come valore false e il tipo di l è logical il risultato di qualunque tipo di confronto maggiore minore uguale eccetera è è un valore logico vero o falso questi sono i tipi fondamentali numerici che possono essere trattati da da R ora se voi andate a vedere qui nell'output che abbiamo nella console vedete che davanti a ogni risultato c'è un 1 voi chiederete ma cos'è quell'1 allora quell'1 in realtà mi dice che quell'elemento è il primo di una serie di 1 questo perché R tratta tutti i numeri come se fossero dei vettori se i numeri sono singoli li tratta come vettori di un unico elemento come faccio a costruire un vettore posso scrivere un vettore di vari elementi ad esempio v freccia uso l'operatore c che è quello che si chiama operatore di combinazione ovvero combina più elementi in un unico vettore quindi se ho c metto ad esempio 30 4 5 6 v come vedete contiene qui sotto nella console quei valori viene questo 1 qua serve perché mi indica l'indice del primo elemento che c'è su quella riga perché ovviamente se il vettore è molto lungo la riga viene spezzata il vettore viene spezzato su più righe un altro modo di andare a specificare dei vettori è tramite quello che si chiama un intervallo un range quindi ad esempio se posso se voglio andare a scrivere i primi 100 numeri posso scrivere 100 freccia 1 2 punti 100 questo mette dentro l'array il vettore 100 i numeri che vanno da 1 a 100 interi quindi quando ho un range normalmente uso dei valori interi domanda come faccio a eseguire l'intero script senza evidenziarlo allora puoi o evidenzi tutto oppure quassù in alto puoi fare source e questo legge tutto il file e lo esegue riga per riga allora c sostanzialmente cosa fa combina tutti gli elementi che vengono passati in un vettore quindi v è un vettore di 4 interi leonardo dice pure ctrl shift invio sì anche esegue tutto il file quindi ctrl invio esegue la riga o quello il pezzo evidenziato ctrl shift invio esegue tutto il file grazie quindi v è un vettore quindi se io vado a fare class di v ottengo numeric perché gli elementi che stanno dentro il vettore sono elementi numerici quando ho un vettore tutti gli elementi sono dello stesso tipo ok è bene ricordarlo ok è valido in qualunque linguaggio di programmazione ma è valido anche qui l'altra caratteristica che ho è che la lunghezza tv in questo caso è 4 lo vediamo sotto domanda il fatto di avere una variabile chiamata c con un valore assegnato non potrebbe dare problemi allora sì tendenzialmente sì qui ci salviamo diciamo così proprio per un dettaglio nel senso che qui c è una chiamata a funzione ed è un built in ok però in generale occorre fare attenzione ai nomi essendo una chiamata a funzione me la distingue dalla variabile c non succede sempre però ok io potrei anche avere una variabile giusto per complicarci la vita che chiamo class uguale classe lo sto scrivendo nella console quindi se io scrivo class da solo ottengo la variabile se scrivo class di classe di allora vediamo se riesco a scriverlo così mi dice che è un carter e anche qui mi distingue il fatto che sia una variabile oppure che sia una chiamata a funzione se ci sono le tonde cerca la chiamata a funzione domanda però se assegno a class una funzione darebbe problemi sì se assegno a class una funzione lo sovrascritto sostanzialmente in generale è meglio fare attenzione ai nomi che utilizziamo sì quindi tornando a quello che dicevamo prima V è un vettore che è stato costruito combinando assieme i valori 30 4 5 6 ha come classe il tipo degli elementi di questo vettore che è numeric e ha come lunghezza 4 altro modo di andare a costruire un array un array scusate un vettore si chiamano in R è con questo due punti e mi dice mettici tutti i numeri che vanno da 1 a 100 numeri interi ovviamente a questo punto ecco quello che volevo farvi vedere quando io devo stampare un vettore che ha una lunghezza significativa più ampia di quella che è la larghezza del testo vedete che vengono scritti tutti gli elementi uno dopo l'altro e poi si va a capo a cosa serve questo numerino qui davanti il numerino qui davanti tra quadri mi dice qual è l'indice dell'elemento che trovo qui come primo ovviamente avendo messo i numeri da 1 a 100 gli indici corrispondono esattamente ai valori che stanno dentro l'array ok da qui notate anche una cosa importantissima che l'indice del primo elemento è 1 ok questo è un elemento estremamente importante da ricordare perché è diverso da buona parte di tutti gli altri linguaggi di programmazione ok attenzione gli indici in R partono da 1 perché perché sostanzialmente è un linguaggio che è stato sviluppato in ambito matematico dove normalmente il primo elemento di un vettore è elemento 1 e non l'elemento 0 come in linguaggi di programmazione normali domanda come possiamo eliminare una singola variabile memorizzata senza eliminarne tutte allora scusate non di qua ma di qua faccio rm e poi metto il nome della variabile quindi diciamo che vogliamo cancellare la variabile classe faccio rm classe e automaticamente tra virgolette perché sto specificando il nome e metto lo tolgo quel nome quell'associazione nome valore all'interno dell'environment ovviamente i vettori esattamente come tutti gli altri elementi tutti i vettori in qualunque linguaggio di programmazione sono utili perché è possibile accedere a un elemento specifico del vettore tramite un indice quindi 100 quadro 99 mi dà l'elemento in posizione 99 oppure se voglio andare a prendere v in posizione 1 ottengo 30 che è il primo elemento dell'array v per cancellare tutte le variabili la cosa più veloce è il pulsante che c'è qua su in alto di cancellazione o da linea di comando rm aperta tonda ls aperta chiusa tonda rm cancella che cosa tutte le variabili di cui passo il nome ls che cosa fa mi restituisce sostanzialmente tutti i nomi delle variabili allora no c'è un altro visto ne approfitto per così vi faccio vedere non mi ricordavo più la sintassi di rm quando io ho bisogno di un help posso fare punto interrogativo rm qui sulla destra mi compare l'help relativo a quella funzione quindi rm o cancella i nomi che vado a elencare oppure riceve un parametro che si chiama list che è di tipo character e quindi tornando su se faccio rm list uguale ls cioè la list è uguale al vettore che contiene i nomi di tutte le variabili automaticamente cancello tutto ok per cancellare la console non so se esiste un comando potete riavviare però la la sessione ok contro l'l perfetto allora abbiamo cancellato tutto l'ambiente quindi rimetto v e rimetto 100 così ce l'abbiamo per gli esempi successivi a questo punto riusciamo ad accedere agli elementi tramite indice ok un'altra caratteristica utile dei vettori in r è il fatto che io posso dare dei nomi per cui questo v che riporta i numeri dei voti del poll di prima li metto qua di fianco così non so se riuscite a vedere il risultato non so se vedete la finestra con i risultati sopra oppure no no ecco allora a questo punto forse li vedete ok i numeri sono quelli adesso sì perché devo condividerli esplicitamente da r allora io posso andare a mettere sì uguale 30 r uguale 4 r studio uguale 5 e no uguale 6 anzi mettiamoli tutti con la iniziale maiuscola così è più uniforme ok ok allora vi tolgo il poll quindi se volete questo questo piccolo vettore permette di andare a riepilogare i risultati del nostro il nostro piccolo poll iniziale a questo punto per recuperare il valore dei sì io posso sicuramente scrivere vd1 ma posso anche scrivere vd sì e quindi tra quadre metto il nome di un particolare elemento e cosa succede che mi viene recuperato l'elemento che ha quel nome e se vado a stampare direttamente tutti gli elementi vedete che sopra il ogni singolo valore viene riportato il nome e questo è molto comodo se voglio avere all'interno di un vettore dei valori e assegnare a questi valori un nome e poi mi permette di andare a recuperare questi valori tramite il nome ok quindi questo è il meccanismo base di definizione dei nomi non vado a fare vari casi particolari il mio consiglio se voi avete un dubbio è uno non sapete come funziona una particolare funzione l'help o scrivete punto interrogativo e il nome della funzione qui oppure qua nel tab di help che trovate sulla destra potete andare a fare una ricerca per una certa funzione ok potete andare a scegliere c combina valori in un vettore magari non è tutto assolutamente chiaro ma diciamo che buona parte dei concetti sono abbastanza semplici se avete un dubbio sul funzionamento e questo non vi chiarisce scrivete un piccolo esempio ad esempio cosa succede se se ci sono due elementi con lo stesso nome allora vettore esempio freccia c di a uguale a 1 b uguale a 2 a uguale a 3 a questo punto se io vado a mettere vettore esempio mi ritrovo lo stesso nome due volte ma se io faccio vettore esempio di a che cosa mi restituisce mi basta inviarlo e vedere il risultato mi restituisce il primo dei due elementi che hanno lo stesso nome quindi in generale la risposta è se ho due elementi con lo stesso nome va bene il problema è che quando devo andare a recuperare ottengo soltanto il primo quindi come considerazione non è una buona idea dare lo stesso nome a due elementi perché comunque potrò accedere a soltanto uno di esse a questo punto parliamo di un'operazione che si chiama slicing lo slicing è l'operazione che permette di andare a prendere un vettore o strutture dati più complesse come vedremo poi più avanti e di prenderne alcune fette per cui io posso prendere un vettore e andare a indicare ad esempio come indice non un singolo indice ma un vettore di indici quindi se scrivo c 1,4 vuol dire che va a prendere estrae gli elementi con indici 1 e 4 cosa fa? mi prende mi costruisce un vettore che è sostanzialmente un sottoinsieme del vettore di partenza in cui soltanto gli elementi che ho specificato vengono mantenuti e gli altri vengono scartati ok? quindi questo è uno strumento molto potente che mi permette di andare a utilizzare un vettore selezionando alcuni elementi lo slicing può essere utilizzato in tanti modi ad esempio posso andare a costruire quello che si chiama un vettore indicatore che è un vettore di logical con elementi true in corrispondenza di quelli di un vettore di riferimento che soddisfano una data condizione ad esempio la condizione potrebbe essere valori minori di 10 ok? il vettore di indicatori quindi ind lo possiamo inizializzare con v minore di 10 cosa fa questa operazione? va a costruire un vettore che ha la stessa lunghezza di v e per ogni elemento va a mettere vero o falso in funzione del fatto che l'elemento in quella posizione sia minore o no di 10 quindi il vettore ind a questo punto che calcolo in questo modo è falso vero 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 vi ricordo che v ve lo riscrivo qui sotto era 30 4 5 e 6 ok? quindi quali sono minori di 10? il primo no il secondo sì il terzo sì e il quarto sì una volta che un vettore indicatore posso fare lo slicing utilizzando quel vettore indicatore per cui posso andare a fare v di indicatore o meglio fatemelo chiamare così minore di 10 e qui vado a mettere il nome un po' più esteso ok? quindi questo mi costruisce il vettore indicatore e questo è lo slicing con il con l'indicatore risultato come vedete sotto vado a prendere soltanto gli elementi del vettore di partenza che soddisfano quella condizione ovvero gli elementi in cui il vettore indicatore è vero ok normalmente qui ho bisogno di indicatori che siano interi ok e scusate gli indici che siano interi gli indicatori invece sono normalmente valori logici il vettore il vettore indicatore domanda il vettore indicatore serve principalmente in ottica di slicing sì allora quello è uno degli usi l'altro uso interessante del vettore indicatore è quando io vado a contare quante volte è uguale a uno ovvero quanti degli elementi sono a true e lo posso fare con l'operazione la funzione sum che è pensata per andare a sommare dei degli interi ma in questo caso quando viene applicata a un vettore di numeri logici scusate di valori logici automaticamente fa una conversione del vettore di logici in un vettore di interi dove true diventa 1 e false diventa 0 quindi sostanzialmente quando faccio la somma di un vettore di valori logici il risultato è contare quanti sono gli elementi a true e quindi il risultato è 3 se vogliamo calcolare la percentuale di valori minori di 10 sul vettore posso fare questo è il numero assoluto quindi quanti elementi soddisfano questo sopra era quali elementi soddisfano posso anche fare che proporzione diciamo così percentuale tanto per intenderci di elementi soddisfa no sum diviso come faccio a sapere quanti elementi ci stanno nel vettore quindi quanti erano il totale di elementi lunghezza di minore di 10 il risultato è 0,75 ok questa è la proporzione se voglio calcolare la percentuale la percentuale è proporzione per 100 la percentuale quindi 75 quindi l'uso dei vettori di indicatore è sostanzialmente questo mi permette di capire quali elementi quindi fare lo slicing oppure calcolare quanti elementi e quindi fare una somma e quindi i due usi principali sono questi abbiamo visto quindi alcune funzioni abbiamo visto la radice quadrata abbiamo visto la somma abbiamo visto la lunghezza la somma ovviamente se io volesse andare a sommare i numeri che vanno da 1 a 10 posso tranquillamente scrivere sum 1 10 che è 55 operazioni tra vettori quando io ho due vettori quello che posso fare è eseguire un'operazione aritmetica io posso fare v più un altro vettore oppure v più uno scalare ok sommo 100 ai valori che erano già presenti in v oppure posso fare v più vado a creare un altro vettore che contiene 100 10 10 100 la lunghezza di questo vettore deve essere uguale alla lunghezza dell'altro a questo punto gli elementi che hanno la stessa posizione vengono sommati e vengono messi nel vettore risultato quindi v è questo il mio nuovo vettore è questo 10 10 100 10 10 10 v più questo è 30 scusate 30 più 100 che dà 130 4 più 10 che dà 14 5 più 10 che dà 15 e 6 più 100 che dà 106 quando la somma o qualunque operazione tra due vettori che hanno lunghezza diversa viene applicato un'operazione che si chiama di recycling ovvero il vettore più corto viene riciclato viene ripetuto più volte quindi nel caso nel primo caso quello del vettore più un numero singolo il numero singolo viene ripetuto più volte e quindi viene ripetuto tante volte quante la lunghezza dell'altro vettore se ho due vettori che non hanno lunghezza 1 quello più corto viene ripetuto più volte il tutto funziona soltanto se quello più corto è un sottomultipo di quello più lungo e quindi il numero di ripetizioni per ottenere quello più lungo è un numero intero per cui partendo dal dal vettore v che contiene i numeri che abbiamo visto essere i numeri di risposte io posso andare a calcolare la percentuale delle tre risposte quindi parto da v che è questo posso andare a calcolare la percentuale di risposte percentuale risposte come v diviso la somma di v per 100 e la percentuale delle risposte a questo punto è il 66,666 periodico di risposte per il sì l'8,8 per R l'11 per R studio e il 13 per il no ok se voglio andare a arrotondare questi numeri perché non mi interessa avere il numero preciso ma voglio arrotondarli diciamo alla prima cifra decimale posso utilizzare una funzione che si chiama round ve la mostro di qua nell'help nell'help è assieme alle altre funzioni di arrotondamento ceiling floor trunk round ok ceiling va all'intero superiore floor va all'intero inferiore trunk tronca la parte decimale e round arrotonda all'intero più vicino o se io vado a specificare un parametro che si chiama digits ha un certo numero di cifre per cui se volessi arrotondare questi valori potrei andare a fare round percentuale risposte e mettiamo una cifra decimale ovviamente se io vado a fare la somma di percentuale risposte ottengo esattamente 100 giusto come verifica che effettivamente l'operazione che abbiamo fatto sia stata corretta ok quindi questo è per quanto riguarda i vettori due il vettore allora due parole su le funzioni di string relative alle stringhe se io voglio concatenare due stringhe o una stringa e un valore numerico posso utilizzare la funzione paste per cui voglio andare a prendere non so 0,75% e lo voglio concatenare con il simbolo percentuale e tengo il 75% paste esattamente come tante altre funzioni è una funzione che è cosiddetta vettorizzata e quindi io posso fare paste round percentuale risposte virgola 1 virgola carattere di percento e quindi questo mi produce un vettore in cui tutti i valori del vettore percentuale risposte sono arrotondati ad una cifra decimale e sono concatenati con un carattere di percento ovviamente paste funziona anche nel caso normale di più string ovviamente io qui ho messo i valori costanti letterali al posto di questi potremmo avere chiaramente delle variabili in quel caso la variabile viene valutata e al suo posto viene messo il valore corrispondente a volte può essere utile andare a prendere una serie di istruzioni di espressioni metterle assieme in modo da andare a costruire una serie di operazioni che vogliamo ripetere più volte metterle in uno script è il primo passaggio il secondo passaggio è quello di andare a raccogliere questa serie di istruzioni all'interno di una funzione che io posso richiamare molto agevolmente per cui immaginiamo di voler prendere un vettore x con una serie di numeri interi e andare a calcolare le percentuali cioè sostanzialmente andare a stampare quello che abbiamo stampato qui sotto scusate come faccio beh allora devo definire una funzione per definire le funzioni sostanzialmente vado a fare un'assegnazione a una variabile che chiamo percentuali ad esempio freccia di che cosa? di un qualcosa che è introdotto dalla parola chiave function function è seguito da parentesi tonde e tra le parentesi tonde metto i parametri della funzione e poi metto tra graffe come faccio in buona parte del del dei dei nostri linguaggi di programmazione il corpo della funzione domanda non ho capito la differenza tra sepp e collapse ci torno tra un attimo finisco la funzione e poi torno sul paste che ha alcuni particolari allora che cosa voglio fare? abbiamo detto parto da x che viene passato come parametro alla funzione che chiamiamo percentuali voglio andare a creare le percentuali quindi vado a creare percentuali chiamiamola perci così ha un nome diverso e vado a mettere sostanzialmente x diviso la somma di x e questi e questi sono i valori numerici io voglio andarle rappresentare con una stringa e quindi vado sostanzialmente a fare un paste di round x con una cifra per decimale concatenato con x scusate non x ma percentuale ok a questo punto questa è la funzione che io ho definito se vado ad applicare la funzione percentuali alla mia variabile vettore v quello che ottengo è sostanzialmente quanto avevamo visto prima cioè 30 5 scusate non devo fare round di x ma devo fare round di perch ok quindi per cento scusate sto continuando a a questo punto 66 89 11 e 13 il paste cosa ha fatto mi ha concatenato ogni elemento del l'arrotondamento della percentuale moltiplicata per cento a una cifra decimale con il percento ok 1 vedete che tra la percentuale e il percento c'è un carattere di spazio questo perché perché paste ha un parametro aggiuntivo che si chiama sep che corrisponde al carattere che viene inserito tra ogni coppia di elementi che io vado a incollare l'uno con l'altro per cui qui volendo potrei andare a mettere sep uguale ad esempio una stringa vuota qual è il risultato che a questo punto il carattere di percento è attaccato al numero quindi il separatore è quello che mi dice che cosa metto tra ognuno di questi elementi e la percentuale niente potrei mettere un trattino giusto per vedere la differenza ok potrei mettere qualunque cosa quindi se non metto niente scusate qui quello che ottengo è la percentuale immediatamente attaccata quindi questo è il ruolo del separatore per semplicità invece di scrivere sep uguale a stringa vuota posso anche utilizzare un'altra funzione che si chiama paste0 in cui automaticamente il valore di sep è quello di una stringa vuota ok quindi questo equivale a questa chiamata a paste0 e quindi è un po' più vedete che la scrittura è più corta e quindi paste0 non è nessuna funzione particolare non ha nessuna funzionalità diversa rispetto al paste l'unica cosa è che parte con un separatore vuoto quindi se ridefinisco la funzione in questo modo e la applico il risultato è l'ultimo che abbiamo visto ok un'altra cosa paste come paste0 mi produce un vettore che ha le stesse dimensioni del vettore che gli passo ok io potrei volere invece di avere un vettore con quattro elementi vorrei voler avere un unico un'unica stringa che contiene tutto per fare quello posso aggiungere un parametro che si chiama collapse e dire che collapse è ad esempio punto e virgola spazio collapse che cos'è è allora se non è definito non serve a nulla se è definito è la stringa che viene utilizzata tra un elemento e l'altro del vettore quando gli elementi vengono incollati tra di loro se non è presente gli elementi non vengono incollati tra di loro e restano separati quindi in questo caso se ridefinisco la mia funzione e la applico vedete che ottengo allora vi faccio due versioni così riusciamo a vedere bene la differenza quindi percentuali e percentuali c dove c sta per collassato quindi definisco questa funzione definisco quest'altra e vado a calcolare percentuali e percentuali c percentuali e percentuali c vedete che la differenza è che in questo caso ho un'unica stringa con il punto e virgolo e spazio che separa quelli che prima erano i due elementi consecutivi possiamo andare a ulteriormente arricchire la nostra funzione l'abbiamo visto nell'help di alcune funzioni ad esempio anche qua che è possibile per alcuni parametri andare a definire quello che è un valore di default ovvero il valore che viene passato alla funzione nel caso in cui quel parametro non sia fornito quindi ad esempio un parametro che qui non è specificato e che è considerato fisso è 1 cioè il numero di cifre decimali che viene stampato quindi qui potrei andare a mettere un parametro che si chiama digits che è uguale per default a 1 ok per cui se stampo percentuali come prima ottengo esattamente lo stesso valore però se stampo percentuali virgola 3 ad esempio scusate devo mettere però qua digits se stampo percentuali ottengo come prima se stampo percentuali di 3 ottengo la stampa con 3 decimali altra cosa particolare di r è la possibilità di chiamare una funzione utilizzando non la notazione posizionale ovvero v corrisponde al primo elemento 3 corrisponde al secondo ma bensì di poter passare i parametri alla funzione specificando i nomi ignorando sostanzialmente quello che è l'ordine quindi io posso andare a scrivere percentuali posso scrivere digits uguale 2 e x uguale a v vedete che li ho invertiti rispetto all'ordine in cui comparivano nella dichiarazione e in questo caso funziona tutto esattamente come prima grazie Ora, qui vedete che in questa chiamata, rispetto al valore di V che avevo originariamente, mi sono sostanzialmente perso i nomi. Questo perché con la somma, l'arrotondamento, i nomi non sono più presenti. Quindi, domanda, una funzione per essere usata è necessaria che sia nel workspace? Ci si crea delle librerie di solito? Allora, sì, la funzione deve essere nel workspace, quindi è necessario importarla. E sì, effettivamente ci sono delle librerie che permettono di andare a importare una serie di funzioni in un colpo solo. E quindi, domanda, una funzione per essere usata è necessaria che sia nel workspace? Per il momento non ne abbiamo viste, ma diciamo che dalla prossima volta inizieremo a utilizzare alcune librerie standard che ci permettono di fare un po' di operazioni particolari. Quindi sì. Quindi quello che vorrei fare, qui un'ulteriore modifica della mia funzione, scusate, non questa, ma di questa funzione, in modo da riportare i nomi. Non l'ho menzionato, ma c'era nella lezione, la funzione names applicata a un vettore mi estrae un vettore di stringhe con i nomi di quel vettore. Quindi qua, quello che potrei fare è andare a recuperare i nomi dal vettore di partenza. metterci in due punti e uno spazio, mettere il valore della percentuale e poi mettere il percentuale in fondo. A questo punto, se faccio percentuali di v, ottengo R2.66, R8.9, RStudio 11 e no. 13.3. Ok. Questo è la base assoluta di R, che è sostanzialmente la prima metà della lezione che vi ho pubblicato. domanda, e se non si passasse un vettore alla funzione? Risposta, vediamo cosa succede. Percentuali, se io passo 5, quindi non un vettore, ma un numero singolo, attenzione, un vettore, un numero singolo è anche un vettore di lunghezza 1. Quello che ottengo è questo. Se passo un valore che è invece una stringa, attenzione, errore, perché quando cerco di fare la somma, mi dice che non è un tipo valido, non posso sommare delle stringhe, e quindi nella funzione quando cerco di fare la somma ho un errore. Posso passare anche un vettore di un elemento logico, che in modo farà 100%, perché è 1. Commento, in effetti R lascia molta libertà perché non abbiamo scritto cosa è X. Esattamente, R non è un linguaggio tipizzato, come ad esempio C o Java per chi l'ha fatto, quindi lascia un sacco di libertà. Questo, da un lato, ci permette di scrivere le cose in maniera compatta, dall'altro, ovviamente, è a rischio perché possiamo accorgerci di qualche errore solamente nel momento in cui andiamo a eseguire il codice. Ci sono vantaggi e svantaggi. Quindi, attenzione, ci sono altri linguaggi, adesso noi stiamo utilizzando R che è un linguaggio abbastanza utilizzato, ma un altro linguaggio che è spesso utilizzato in contesto data science è Python. Python ha le stesse caratteristiche, quindi non ha variabili tipizzate, quindi ha il stesso tipo di problemi. domanda, true viene convertito in 1, 1 non viene convertito in true. Allora, non per default, però, se io vado a fare un as logical, posso scrivere as e qualunque valore, scusate, qualunque tipo di variabili, quindi numeriche, integer, logical, character, e vado a mettere c, 0, 1 e 2, 3, la stessa cosa, il risultato è 0 viene considerato falso e qualunque valore diverso da 0 viene considerato true. quindi la conversione viene fatta se io la richiedo come in questo modo. Ok, direi che con questo la nostra prima introduzione a R l'abbiamo fatta. non vi pubblico una nuova lezione prima del laboratorio di giovedì, anche perché giovedì non utilizzerete R, quindi non vi servono queste cose, non ancora. Io pubblicherò poi venerdì una prossima lezione su alcune caratteristiche un po' più avanzate di R, quindi come faccio a leggere dei dati e analizzarli utilizzando soprattutto dei data frame. Quindi, se non l'avete ancora fatto, guardate la lezione precedente perché è la seconda parte che non abbiamo trattato oggi riguardo i data frame che quindi saranno utilizzati. E poi venerdì ci sarà una lezione ragionabilmente un po' più breve di quella precedente su l'uso base di lettura da file, analisi dei dati che vi metterà nelle condizioni per poter andare a svolgere quello che è il primo laboratorio su R che sarà la settimana prossima. Direi che con questo per oggi chiudiamo, abbiamo sforato di un paio di minuti. Laboratorio come al solito giovedì e noi ci rivediamo lunedì prossimo. Buon pomeriggio a tutti. lascia che che facciamo Grazie.